Inizia la colonia estiva di Arte per te. Che stai aspettando? Vieni anche tu! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì, avete capito bene, finalmente inizia la colonia estiva di Arte per te. Il corso di creatività estivo dedicato a tutti gli obbisti, a tutti coloro che vogliono sperimentare le frange dell'arte più inusitate. Insomma, durante questo corso estivo che comincerà il 18 giugno e si terrà tutti i martedì dalle 18 alle 19. Ho scelto un orario comodo e fresco per l'estate, ma io sapete, sono sempre flessibile con gli orari, quindi dico dalle 18 alle 19, ma poi se il lavoro lo richiederà andremo un po' più avanti oltre le 19. Non so se succederà, però potrebbe capitare. Allora, approfittando della bella stagione, ho pensato di portare avanti una serie di lavori creativi che normalmente sul canale non tratto, ma che mi piacerebbe tantissimo portare avanti con voi. Passando da semplici esperimenti con l'acquerello, con le varie tecniche pittoriche, ci sposteremo alla creazione di manufatti, per spostarci poi alla creazione di monili per la persona, per spostarci poi alla creazione di quadri 3D fatti con i materiali più disparati. Creeremo delle cose bellissime usando materiali diversificati che naturalmente vi verranno comunicati di volta in volta in tempo utile. Il costo del corso è sempre di 150 euro e il corso andrà dalla settimana del 18 giugno alla prima settimana di settembre, data in cui ci saluteremo perché poi prenderanno avvio i corsi annuali di arte per te, quelli invernali. Ci sarà soltanto una piccola pausa durante la settimana di ferragosto. Durante quella settimana noi non ci vedremo perché do la possibilità a tutti coloro che sono iscritti di prendersi una vacanza senza perdere nessuna lezione. Le lezioni naturalmente rimangono sempre online, a disposizione degli iscritti e consultabili in qualsiasi momento, quindi qualora non doveste essere presenti durante la diretta potrete sicuramente riprendere il vostro lavoro in un secondo momento. Non ci saranno le correzioni canoniche come i corsi invernali, ci saranno più che altro delle discussioni sul vostro operato di volta in volta durante le dirette, quindi sarete chiamati a postare i lavori man mano che facciamo ma non sarà obbligatorio e secondo poi lo farete solamente se vorrete un consiglio, un approfondimento che potrete chiedere postando nell'apposito album che creeremo su Facebook come facciamo ogni anno per tutti i corsi. Bene, sarà un corso molto divertente di arte libera, di arte veramente vissuta perché vi farò lavorare tantissimo sporcandovi le mani, ma non vi preoccupate, non vi metterò a questo quadro casa e approfittando della bella stagione useremo anche le paste modellabili, ci divertiremo a creare delle cose insolite che di solito non mi vedete usare per problemi di tempo sul canale. Non avevo fino a questo momento mai pensato a sfruttare l'estate. Bene, se vorrete io vi aspetto. Il programma dettagliato sinceramente ancora non lo so, però sicuramente vi farò fare molte cose e molte cose diversificate perché questo è il mio intento, darvi la possibilità di usare dalle paste modellabili più semplici come il dasso, la plastilina ai cartoni, cartoncini. Useremo anche l'acquerello che è una tecnica che moltissimo si presta alla stagione estiva, useremo gli acrilici, useremo tutto quello che ci necessiterà, gli stucchi che potremo farci anche da noi, useremo le terre, useremo le conchiglie, le sabbie, insomma ci divertiremo, ma faremo tutte cose di un certo livello. Non pensiate che sarà il corso in cui vi faccio fare il posa cenere con il das, assolutamente no, usciranno tutti i bei pezzi e tutti i pezzi che potranno decorare la vostra persona o la vostra casa nel migliore dei modi. Parola di ombretta. Allora se questa cosa vi interessa vi aspetto tutti. Come procedere? Venite su Facebook e mandatemi un messaggio privato, quindi Gabriele vi ricontatterà uno per uno dandovi tutti i dati per procedere all'iscrizione. Quindi correte numerosi, vi aspetto, vi aspetto tutti e che l'estate avvia inizio dal 18 giugno, dalle 18 alle 19, tutti i martedì su Arte per te per una bellissima estate insieme. Vi aspetto un grande bacio a tutti, da ombretta e da Arte per te è tutto, ma solo per oggi c'è un'estate ad aspettarci. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!